Quali sono gli obiettivi della campagna antiprostituzione messa in atto dal comune di Montesilvano? Questo è un progetto molto ampio, credo che sia uno dei progetti più articolati che sia mai stato realizzato in Italia. L'obiettivo di questa iniziativa e di questa campagna è quella di far recedere ovviamente i fruitori da questa che è una pessima pratica, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del decoro e della sicurezza cittadina. È un progetto che si articola su diverse fasi, la prima sarà una campagna pubblicitaria abbastanza dura per far capire qual è il valore della donna e soprattutto quali possono essere le conseguenze di un atteggiamento non solo che offusca il ruolo dell'uomo ma che davvero ne deprime negli elementi essenziali. E poi si articolerà attraverso la creazione di un nucleo antiprostituzione della Polizia Municipale, la creazione di un numero dedicato a cui far affluire le segnalazioni. E questo nucleo si occuperà del contrasto al fenomeno prostitutivo sia in strada che in appartamento, andando a girare poi le informazioni alle altre forze di polizia per una mappatura del territorio e soprattutto per verificare se ci sono gli elementi per procedere al sequestro degli immobili laddove si identifica il reato di favoreggiamento della prostituzione. Ma ovviamente non ci fermiamo qua perché verranno posizionate telecamere e pannelli luminosi che annunceranno a tutti i fruitori della Pineta, del Retropineta e della Riviera, che sono le zone dove viene esercitata la prostituzione Montesilvano, della vigenza dell'ordinanza e delle conseguenze nel caso di mancato rispetto.